Prima di presentare l'ultimo brano in programma, dobbiamo presentare i nostri tre pulcini, due pulcine e un pulcino, che sono gli elevi dello scuolo musica, che esordiscono proprio stasera. Per loro è una grande emozione sicuramente. La storia di loro anni arriva 25, poco più che maggiorelli. Iniziamo con Noemi, a fare un grande applauso. Un applauso anche per me. E grazie a Noemi! Siete emozionati? Sì, è un po' lì.